Vorrei darvi le ultime notizie sulla navicella. Siamo un po' fuori rotta, ma soltanto di un TED. Signorina, mi scusi, cosa significa TED? Beh, in termini spaziali significa mezzo milione di miglia. I sobbalzi che sentite sono dovuti a degli asteroidi che colpiscono violentemente lo scafo della navicella. In questo momento, inoltre, siamo privi del sistema di navigazione, per cui non c'è possibile ritrovare la rotta. Niente panico, niente panico. Oggi, mentre stiamo parlando, siamo salvi. Ma adesso ci sono tanti, ma poi c'è Imo. Oggi, mentre parliamo, siamo salvi. In bacio di Cittadini è fallo intenzionale alla difesa di Forlì, che sicuramente si è appesa al braccio di Cittadini. Beh, mi sembra sicuramente una decisione troppo, troppo, troppo severa in questo momento della partita. Lasciamelo dire Coch, lasciatemelo dire tutti. Lo sognavo da tempo. A mio avviso una cagata arbitrale. Immensa. Cagata arbitrale immensa. Finisce. 93 a 88. 5 punti di disavanzo. Forlì mantiene la differenza a canestri. Accontentiamoci di questa. Spariamo per il proseguo. Buona serata a tutti. Ok, panico. Signori, ascoltatemi. L'equipaggio tiene la situazione sotto controllo. State tranquilli. Stronzate, stronzate. Vi ho detto che l'equipaggio tiene la situazione sotto controllo. State calmi. Incredibili stronzate. Ci sono state calmi.